Ciao a tutti dal salutatore, eccoci qui, è appena finita l'edizione nona del premio Settegolli del bravissimo, io rimango sempre incantato, Fabrizio Pacifici, ciao! Ciao Cristi, anche io ogni tanto rimango incantato di me stesso, a parte gli scherzi nona edizione di questo premio che ormai è diventato un calte, che ho presentato insieme ad Emanuela di Tocchia, tantissimi gli ospiti anche questa sera sul palco del Palanette Roma, Giuseppe Giannini, Pino Wilson, il dottore Viola, Ernesto Alicicco, Luciano Tessari, il mister della Roma dello Scudetto insieme a Nils Lidom, Nadia Rinaldi, il mitico Gazzipo! Veramente tantissimi amici, Dundar Kesab, il giornalista turco più importante, sicuramente mi sto scordando qualcuno, il Sape Lazio che lo sentiamo in sottofondo, quindi... Sì, Paolo Russo che si fa sentire! Quindi veramente un'edizione trionfante, grazie a tutti! Ecco, perciò abbiamo detto tutto perché è stata vissuta, grande amore, grande partecipazione da parte di tutti, come sempre, perciò questo evento sempre prima del derby, e... vinca il migliore? No, speriamo che vinca la Roma, al di là del migliore in campo, quindi grazie a voi e seguite Cristian, che lui è onnipresente, grazie! Grazie e ricordiamo ovviamente Eventi Roma! Eventi Roma.com e tutti i riferimenti comunque sulle mie 15 pagine Facebook! Ti ringrazio e complimenti, grazie Fabrizio! Un tuo ammiratore, un tuo ammiratore! Ciao! Ciao! Grazie, ciao Fabrizio!